Sesto giorno di digiuno. Preparo l'estratto per oggi a pranzo. Ci sarà sedano rapa, pera, spinacini, limone, cicoria, carota, uva, mela e credo basta. Dopo piano piano vediamo se manca qualcosa. Inizio a fare l'estratto. Si inseriscono i pezzi a caso senza stare a scegliere. Da questa parte uscirà l'estratto, da questa parte uscirà la polpa della fruttica, della fibra, che si chiama anche Ocara.